Maurizio Lampis ha trascorso il lockdown a Cagliari con 170.000 mattoncini Lego e 700 fotografie di Piazza San Marco. Il risultato è una riproduzione da Guinness di 2,70 metri per 1,05 metri dal peso di circa 90 chili del cuore di Venezia, animata da centinaia di persone animali. Realizzarla tutta non era mai stato fatto, è stata veramente una scommessa personale, una sfida personale che spero di aver vinto. Questo è un progetto molto lungo di otto mesi che rappresenta fedelmente le procuratie, il campanile e la Basilica di San Marco. Otto mesi in cui lei ha lavorato da solo, tra l'altro senza farsi fare dei pezzi ad hoc? Io conosco quel catalogo praticamente a memoria, quello mi permette di poter realizzare qualsiasi forma che rispecchi fedelmente il progetto che ho in mente di poter realizzare. Una passione è quella di Maurizio Lampis, sbarcata proprio a Venezia, ad ospitarla a due passi dalla Basilica dei Frari e Fabrizio Fontanella, il più grande collezionista d'Europa del giocattolo vintage, cui ha dedicato un museo che ospita anche numerosi incontri con gli autori. La Piazza San Marco è il massimo, esporla nella città che rappresenta. E ha cercato me pensando che questo posto fosse il posto più adatto. Quanto rimarrà qui? Rimarrà qua almeno due mesi, tra l'altro noi adesso siamo aperti come in alta stagione, quindi tutti i giorni siamo aperti. Titolare di un museo del mattoncino in Sardegna, Lampis ha iniziato costruendo castelli medievali, per poi passare prima alle riproduzioni dei monumenti sardi, poi a quelli italiani, a patto che, come nel caso di Piazza San Marco, non fossero già stati realizzati. Un modo inedito di comunicare Venezia a un pubblico inedito. È bello raccontare i dettagli della nostra città. Ogni pezzo e ogni pietra di Venezia è evidentemente unica. Adesso cosa prova quando arriva in Piazza San Marco e vede tutta l'architettura sulla quale lei ha lavorato per così tanto tempo da distante. C'è stata emozione, perché sono stati otto lunghi mesi, con la speranza sempre poi di un giorno di poterla portare a Venezia, obiettivamente a casa sua.